La giornata è vero che non ci sarebbero giocati contro l'Inter, quali stimoli anche da questa partenza sono abbastanza forti? L'Inter è una squadra fortissima, ce l'andiamo a giocare, ripeto, senza paura e senza timore, quindi siamo anche in una squadra forte che fa un buon calcio, quindi la prepariamo al meglio, il mister è fortissimo su queste preparate partite, quindi ha paura di nessuno.